Jeffcon 1 1 E' bello a tutti ragazzi, Jeffflex che vi parla ed oggi siamo tornati su Block Ops su Minecraft in compagnia di Kripro Bella E poi sono in compagnia di Aldo Perfetto Ragazzi l'obiettivo di oggi è vincere contro Aldo Ma io posso già partire? Sì, possiamo partire Gorilla Aldo però sei attento al Gorilla perchè quando si arrabbia diventa un Gorilla arrabbiato Eh, attento, eh Sei scifccato dentro la casa Sei scifccato dentro la casa Ah, figlia di puttana No, aspetta, non c'era il mantenimento, aspetta Vedo un complimento, un insulto Ah, avanti, Chris, spiegargli la storia del Gorilla Venga, praticamente Giovanni è il Gorilla Tutto questo Non è vero Perchè praticamente c'eravamo io e Ghost in party Oggi sono un fighter E stavamo facendo arrabbiare il Gorilla A un certo punto lì arriva al massimo dell'arrabbiare No, arriva al massimo E inizia a fare Siete delle scimmie Scimmie E poi da quel Da quello poi è inizio del Gorilla Eh, per te Potete fare un insulto e caramme Gorilla quando invece sei tu No, tu mi hai detto come insulto scimmia Il Gorilla te l'ho detto io a te Eh, ma che c'è zicca, sempre i Gorilla e scimmie se non la ti amo, eh Non è vero Ci sono vari tipi di scimmie, c'è il babbuino Se posso essere handicappato, tu Puoi essere, ci sei tu No No Scusa, se tu sei Gorillardo cos'è allora? E' un babbuino Frocio Aaaaaah Forno Forno, non via Sto gay che se lo prende con uno che non ha mai in cazzo Da Da quanto? Da Dai Raga, strano, eh Eh, wow, quando non c'è l'angelo non vince, che strano Vuoi vedere cosa, vuoi vedere cosa faccia arrivare il lag e non ti faccio più giocare? Eh allora è lag switch fai, vabbè da dir Sì No Eh Aldo, dimmelo che sta dietro di me però, sto Gorilla che è No, non glielo dire Aaaaaaah Aaaaaaah A che hai preso? Non lo so Aldo, dimmi, ma ti vedi che stai dietro? Aldo, ma tu shoppi su fortnite? Io? Mh Ho shoppato due passi quindi 20 euro Porca Vabbè, occhio creepro che gay Eeeh 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 Creepro Cos'è cosa? Anche tu però, eh Cazzino modesto qua No, ho preso dalla laterale l'ho preso Coerente Ma l'ho preso C'è Aldo che sta Eccone Nooo Io non ne so niente Non è vero Scimmia 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 Metti le palestre le prossime volte cioè se non fanno più da Le prossime volte Vabbè Ci sta Ho visto che ogni tanto quando Accendi il cervello Muore Ma c'è muore Ma c'è muore Mi si mette mi sembra ballare Eeeh C'hai dai le cimmi C'hai da un po' di banane e Indevele intelligenti Hai visto? Gorilla Che cori il successo secondo me a cercare a te? Ma chi è che ha buttato delle mappe dentro la casa? Oh nooo Si Che brutta figura No E GAAA GALI Spera e pa Nooo GALI Eh no Spera e basta Ma GALI che fino ha fatto? E' morto E' morto Odio E' tipo stramorto Da' morto E' chi l'ha ucciso? Grisel e' mangiato No Gianmarco E' romano Nooo 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 Guarda dietro E dai GIOVANNINO 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 Cosa mi fai? Cosa mi combino? Nooo Sì GIOVANNINO 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 Ma ci dobbiamo fare la vacanza queste stalle Ancora non sto Ma io me la voglio fare veramente la vacanza Fattato No Vado con Aldo e Gianmarco Esatto No No Ahahahah Guarda Non mi dicevi che a prendere Brutto Sto Sì Orilla Ma non vale che schifo Ma non vale che schifo Va Non scherzo un po' il cazzo eh Secondo me hai ragione GIOVANNINO 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 Andiamo tutti a casa di Gianmarco queste sarete E' domanda la foto E' domanda la foto E' domanda la foto E' domanda la foto Sì Anche c'è la vicina Ciò che è da uso per la parte Ovvero la pasta Dallare Il gommone Il gommone Lo riempie un po' d'acqua Ma la tua piscina è grande Cri E' un 3x3 Ma tu Cri dove abiti? A Napoli C'è tutta roba taroccata Sì Ah vabbè Aldo lo sai che Cri c'ha un plus taroccato? Che lo paga 20 euro a Nual Ma nessun lavoro Lo paga 20 euro in un anno però non si può scaricare i giochi gratis Ma hai capito che schifo puoi giocare quando vuoi tu però non puoi scaricare i giochi capito che si E' come fatto davvero? Eh Ah che puttana Che puttana Che puttana Va 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 Ma che 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 Si si vede che il napoletano si vede Eh visto Ma lo sto vincendo Questo terrone Perchè mio non è il terrone capito? Io sono un polentone C'è diglialo Dietro Io e Aldo siamo polentoni Cri è invece un terrone Che schifo Esatto Io mi vergognerei di essere del sud Esatto Giovanni polentone nel cuore Eh Mangia la polenta Ma è buona la polenta? No Ma fa caccare Cazzo Non vorrei zattarmi lo sto vincendo io eh E allora anche tu se un terrone eh Mmm Mi scherzavo mi piace mi piace Mi piace cazzo Ma perchè come è fatto? Come non sai veramente? Oddi Non sai veramente cosa mi ha fatto? No vabbè quella freccia non puoi sapere dove si ha preso quella freccia Beh è la tesola delle dotte Eh come si può dire? No vabbè Ma puttana di merda Sì Oh Oh Che sessi Allora questo Allora questo Ma che Dio Ma che Dio Sì Ma va finis Vabbè ragazzi basta per questo video è tutto Ehm Video Video Mi raccomando passate al canale di Aldo che lo troverete sotto in descrizione Poi mi raccomando c'è un like, un commento e scherzo al canale Dai Pexaldo e il polentone gorilla è tutto No in realtà Che sei tu e tu Cria un gorilla Bella 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 bella